e ci troviamo a santa maria di castellabate in località serrone presso la mostra dedicata alla civiltà contadina e marinara del cilento una mostra insomma di pittura scultura ma anche narrativa dell'artista lucio isabella cilentano ovviamente e detto il ribelle questa bellissima mostra che vedete alle mie spalle insomma comprendete davvero pezzi unici e che sono dedicati per lo più al cilento ma quello che mi viene da chiedere insomma all'artista lucio isabella la prima domanda insomma che vorrei porti luce quella del perché hai allestito una mostra proprio qui distante dal centro di santa maria di castellabate luogo non dico non accessibile ci mancherebbe però che non desta la visibilità insomma dei passanti come di solito insomma ti vedevamo fare poi negli anni passati dunque io sono stato quasi costretto a prendere questa decisione perché mi hanno rifiutato in qualsiasi posto del comune di castellabate di portiere perlomeno mettermi con una bangarella quindi un po' è una protesta contro non contro nessuno però siccome mi hanno proibito di farlo da altre parti l'ho allestito qui a casa mia anche se non si ferma nessuno però come vedete è qualche cosa di meraviglioso ci sono state delle persone valide che mi hanno definito un genio o un pazzo e io continuo a essere genio e pazzo però sono un bello mi sono ribellato a un'imposizione che mi hanno proprio proibito di fare di stare con una bangarella come sono stato per altri anni e non solo nel comune di castellabate ma anche nei paesi cilindani dove tutti mi accettavano qui non mi accettano più lucio di questo patrimonio immenso di cultura come abbiamo detto prima che comprende poi la pittura la scultura ma anche la narrativa ci sono tantissimi libri insomma che lucio isabella ha scritto che sono molto belli dei romanzi davvero affascinanti ecco che cosa speri si possa fare in futuro per il momento tu hai allestito questa mostra e diciamo che il tuo intento è anche farla il messaggio insomma piuttosto di questa di questa mostra è quello di farlo arrivare anche agli studenti delle scuole del territorio la mia aspirazione sarebbe proprio quella e posso dire che quando vengono quando sono venuti perlomeno qualche volta gli studenti gli scolari che siano elementari che siano scuola media perlomeno quelle scuola media capiscono un po di più è stato un successo enorme perché si trovano di fronte a delle cose che hanno vissuto i loro nonni cioè il sistema di qualsiasi lavoro che c'è sui quadri rappresenta il lavoro che facevano tre generazioni fa dopo la guerra è cambiato tutto i trattori le cose non si lavora più la terra a mano anzi se qualcuno la lavora ancora fanno venire gli extracomunitari quindi praticamente io che sono uno di quelli che che ha lavorato la terra così proprio a mano ho fatto tutti i lavori dei campi la mia titura la battitura del grano la battitura del grandurco con certi attrezzi e tutto questo mi è rimasto talmente dentro che anche nei miei romanzi ci sono dei 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 disegni che rappresentano proprio i lavori che si facevano 70 80 anni fa la mia titura del grano con la faccia e la raccolta dei figli quella viene quasi allo stesso modo però tutti i lavori dei campi sono cambiati totalmente quindi se tornasse mio nonno direbbe non è il mio mondo quindi tutto questo è racchiuso in questo scrigno di cultura che vediamo qui proprio a casa tua perché questa è casa tua e ovviamente tu lo metti in mostra per coloro che sono amanti dell'arte e in generale della cultura ma siamo in vista insomma delle prossime elezioni comunali quindi magari un appello anche ai futuri amministratori di questo territorio affinché possano insomma mettere in risalto quella che è la tua storia che è il tuo lavoro che negli anni passati hai fatto e che continui a fare per il territorio attraverso queste opere d'arte magari ecco come dicevi un mettere in evidenza attraverso la scuola ecco il lavoro di un tempo e quindi far capire agli studenti qual è la differenza del 2021 con gli anni passati e trascorsi questo è già stato fatto già perché un tempo quando mi hanno fatto fare nelle scuole medie di di santa maria ho regalato dei libri e delle cose ai ragazzi delle scuole medie e mi hanno fatto fare l'incontro con l'autore coi ragazzi e i ragazzi vedevo veramente erano interessati c'è stata una ragazza che in un mese ha letto 12 libri dei miei perché io ho dato in ogni classe quando c'erano 18 ragazzi 18 libri diversi quindi e quindi praticamente io ho visto che i ragazzi prendevano per bene quello però le scuole non l'hanno mai accettato queste cose perché ci sono dei professori mi dispiace dirlo che non pensano che siano delle cose belle e quindi praticamente vanno avanti con delle cose eh tradizionali cioè la scuola si faceva così e basta quindi qual è il tuo appello magari alle alla prossima amministrazione comunale che tra poco sarà eletta proprio dal popolo di Castellabate che cos'è che chiedi? Chiedo per il prossimo anno a me già qualcuno di questi nuovi aspiranti sindaci mi ha promesso di far venire le scuole a visitare queste perché qualche cosa di bello che noi abbiamo perduto io non è che voglio che quelle cose perdute voglio rifarle però qui c'è un forno che ho fatto io che ci abbiamo fatto il pane ecco quello c'è il forno dietro tutti questi uccelli c'è un forno quello l'ho fatto io il rivestimento di questa casa me lo sono fatto da me tutto quello che vedete qui non solo le sculture le pitture i libri e tutte le cose anche la pianificazione diciamo la pavimentazione di queste cose l'ho fatto io cioè io sono uno che adesso le faccio vedere il mio mestiere qual è stato nella mia vita il mestiere in cui ho vissuto di più che ho fatto il disegnatore nautico e adesso vorrei che Marco mi porti vicino alle barche che io ho disegnato che ho disegnato addirittura se io dico 300 barche dico poco e magari ho disegnato barche per i pezzi più grossi dell'italia a partire dall'avvocato agnelli che mi ha fatto i complimenti ecco lo faccio vedere questa è la barca dell'avvocato agnelli si chiamava l'ultima dea questo disegno io l'ho fatto nel 1964 e quando io sono entrato in quel cantiere non sapevo che la matita h era più dura della b quindi non capivo niente e poi sono arrivato a fare questi tipi di disegni come vedete quella barca dell'aga can ho disegnato barche per i pezzi di grossi del mondo sembrava una cosa strana e nel campo della nautica mi chiamavano mano d'oro perché è uscito un libro dal titolo in inglese tutto tutto 250 pagine dove ci sono 200 disegni di lucio isabella e nella pagina dove l'autore del libro ringrazia coloro che hanno contribuito per l'assessore di questo libro tecnico c'è scritto che i disegni del libro sono di lucio isabella ed è attestato nella scrittura è dedicato a lucio isabella ho fatto 16 anni ed è successa la storia di di giotto e cimabue cioè cimabue che andava in giro per la campagna ha trovato giotto che disegnava una pecora io ho disegnato qualche cosa una battuta di caccia nel candiere dove prendevano gli apprendisti e questo grosso architetto mi ha portato nel suo ufficio mi ha fatto copiare un disegno da lì sono stato 16 anni eravamo il braccio e la mente ed ero il solo disegnatore che ha disegnato decine direi quasi centinaia barche da corsa barche per i pezzi grossi addirittura dall'australia alla nuova gelanda al sud america al canada insomma sei uno scrigno di storia ma se anche una buona mano d'opera perché insomma ci hai raccontato che hai fatto tanti lavori artigianali ecco da solo ci sono anche delle bellissime statue rappresentano san francesco è stato e non sono tanto bravo come altre cose però pure questo ho fatto io quindi praticamente complimenti a lucio isabella come sempre non è la prima volta che noi intervistiamo l'artista lucio isabella spesso insomma ci tengo a dire anche un'altra cosa la sveva sacramola di dirai tre a geo mia cioè gli ho mandato varie volte prima non mi rispondeva poi mi ha mandato una bella lettera con una sua fotografia codedica e mi ha invitato appena possibile di essere ospite nella sua gli abbiamo mandato col mio amico lazaro gli abbiamo mandato il filmino eventualmente rimanderemo anche il filmone quindi e perciò io ringrazio tutti quelli che mi aiutano a fare un passo avanti mentre ci sono parecchie persone che vogliono che io faccia un passo indietro bene allora noi dobbiamo sostenere quelle che sono ecco le memorie storiche del territorio del cilento lucio isabella ne è la testimonianza con i tanti lavori che ha realizzato nel tempo e questa bellissima mostra che è ricca di storia di tradizioni del nostro territorio quindi il suo messaggio il suo appello veramente che proviene dal cuore è proprio quello di tramandare alle generazioni e quindi agli studenti delle scuole del territorio quello che era il lavoro di un tempo per essere per apprezzare di più la vita di oggi una vita che è troppo veloce che non ci dà il tempo di assaporare quelle che erano le sensazioni e le emozioni che si vivevano tanti anni fa grazie lucio isabella come sempre per quello che fai e complimenti davvero per i tuoi lavori sono davvero sono sono grato a gianni e raffaella amici da sempre per questa intervista ma veramente voglio dire che sono i pochi che hanno stima di me c'è un allestimento in varie posti del cilento delle mie cose speriamo che anche a castellabate qui la nuova amministrazione abbia un occhio di riguardo per queste cose perché se dico è una vergogna di come si sono comportati nei miei riguardi dico il vero ma non lo dico perché sono incontro di loro sono sono un cane in chiesa che viene cacciato fuori mi dispiace dirlo perché io sono nato qui per poi sono vissuto fino a vent'anni sono andato ad ansio con la mia ho lavorato ad ansio circa 60 anni però la mia terra il mio cilento è questo perciò voglio ritornare c'ho perfino il locolo nel cimitero avevo pensato di venderlo perché come mi trattano non volevo stare nemmeno da morto però è la mia terra me ne frego di quelli che che non mi stimano come raffaella e gianni sono parole forti le tue però io sono sicura che lucio isabella ritornerà più forte di prima e continuerà ecco con la sua missione che è quella di far vedere le bellezze rappresentate appunto nelle opere d'arte che poi lui realizza manualmente a tutti i giovani del territorio grazie lucio grazie a voi a tutti i giovani del territorio grazie a tutti i giovani del territorio grazie a voi grazie a tutti i giovani del territorio 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 gra